Che smania, che smania E l'eterna storia che vivere ci fa Strillo il cielo, la terra, lo mare Ai, ai, che smania E la femmino masculo strilla Ai, ai, che smania Giorni e notti si senti smaniari Ai, ai, ai Per l'amor che se manca fa tutti impazzirì Ai, ai, quel dolore Strilla l'aria, la nuvole, il sole Ai, ai, che smania E la femmino masculo, cani, lo sciuri, lo sciecco Non fanno che smania Ai, 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 ai Terra, mare e stelle non fanno che smania Ai, 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 ai E l'eterna storia che vivere ci fa Che smania Che smania Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Che smania Giù il cappello, signore e signori Giù il cappello davanti alla morte Una giovane vita Un virgolto, un poebro per darsi coraggio Sta per fare il gran passo Perché? Una brutta pagella Ma che? Un amore deluso? No, no Una verde dal gioco? Nemmeno Beh, di questo imminente decesso Il perché lo saprete oggi stesso Leggi i conti Straordinario, internazionale, Balletti C'è cresso, unico lì 650 live Scompi alle forze A mati A mati C'abbiamo vin Sì Lasciamolo Cosa Guardi Fai 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 No, 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 no. Guarda, guarda. Tardi. Me ne fotto. Guarda. Si. Toto, prendiamo la corrente. E lasciami prendere. Su, scatate. Amore. Maledetta, andavate, venite, andavate! Noia! Maledizione! Eh, te saluto! Buona mattina. Che stai a te lo metto? Che sta a facendo? Ma lavo la giacca, se no se basta. Vincere! Dammi la giacca, disgraziato! Dammi la giacca, da tutto per stare bagnando. La gamba! La gamba! Sono giovani. Ardenti, smaniosi. Hanno il sangue degli arabi antichi. Ma la loro è una terra un po' stramba, dove prima di fare all'amore, necessario è recarsi all'altare, con la sposa, i parenti, gli amici. E se uno, mettiamo, non vuole rinunciare alla sua libertà, resta in bianco a sognare carezze, baci ed altre amorose sciocchezze. Bene, grazie. Bene, grazie. Due milioni. C'è. E più? Dieci milioni. Cento, cento milioni. Ma ancora non è notte. Che vuol dire? Anche di giorno si fa l'amore. Anche. 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 Guarda. Sotto ! Non avere paura, Rosario. Tranquilla deve stare. Vattene, spudorato. Non me guardare. Vai via. Nico, pure tu, non me guardate. E' un po'! Non credare. Non facciamo niente. Dicello pure tu che non facciamo niente. Ma certo. Che vuoi che ti facciamo? Hai sentito ? Non devi avere paura. Fermati. Fermati. Vai via. Sandrosa. Che occhi d'assassino. Fermati. Sì, sì, mi fermo. Ma tu non avere paura. Per l'amore di Dio. Totò, vattene. Nico, portalo via. Nico. Nico, mi senti ? Adesso che mi avete vista così, gli occhi vi si devono giocare. Quanto sei Petra, 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 Petra. Non devi avere paura. Petra, Petra, Petra. Rovenata sono. Petra, Petra, sei Petra. Mi tocca, che mi ammazzo. Sì, sì, non ti tocca. Ma tu non avere paura. Io calmo sono. Ma toccata ! Tanta la salea, io tammi tocca. Ma toccata. Oddio. Oddio, assassino. No. Vai via. No. 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 Che tremore di cuore. E che voglia. Nicolino, sembri un cane frustato. Ma tra noi, lei ci sta o non ci sta ? Non ci sta. Sì, ci sta. Non ci sta. Che passione, che orrore, che smania. Poi, Nicolino, tocca a te. Che farai ? Te la senti di fare il secondo nella cosa più bella del mondo ? Vieni, corri ! Mori io soltissimo ! Rosaria ! Rosaria ! Rosaria ! Che c'è ? Che c'è ? Dove giino ? Avante, parlate. Don Leggino, mi avesse fatto volentieri fatte me. Ma non fu possibile. Meno giro di parole fate, meglio è. Mezz'ora fa, passavo col carretto davanti alla masseria, abbandonata. Ho sentito gridare aiuto. Era Gammelina, la figlia di Don Calò. Mi hai messo sulla bocca di tutti, eh ? Andavi a ballare, eh ? A ballare. E balla ! Balla, balla. Ma balla davanti a me ! Tu ballavi. E l'altra ti aspettava. E poi tornavano come due colombe innocenti le degenerate. Io ti ammazzo ! Famiglia di rispetto eravamo. Da sé ! Paura tutta abbiamo fatto. Da sé ! La lupana, lui l'ha inversata. E tu del genere di vergogna mi hai coperto. Cormelina. Io ti ammazzo. Se te lo trovo con quell'altro bagaglio ! Tutte e due. Tutte e due maledette se l'hanno presa la figlia mia ! Topaci ! Luigi no ! Innocente ! Ho perduto una figlia. Ma chi ha sbagliato pagherà ! Don Luigi no Trizzini ha un concetto del tutto isolano dell'onore. E' rimasto legato meschino alla tesi ancestrale della Bibbia al dente per dente. E siccome non può violentare chi la figlia si prese per forza, lui che fa ? Lui che manco si sogna di appellarsi alla legge penale, lui va a farsi giustizia totale. Scusate Don Luigi no credevo che fosse mio figlio. Che vi serve a quest'ora ? Vostro figlio appunto. Allora venite a cercare di notte col fucile. Ci sono le ragioni giuste. Tutto il paese lo sa. E forse anche voi. Voi parlate un linguaggio che non mi piace. Mi avete detto che vostro figlio non c'è e vi credo. Felice notte. Nicola. Ah, siete voi. Asanda. Ho bisogno di vostra figlia Nicola. Sì, per carità. Se mio marito si accorge che quello sforcato non è ancora tornato a casa, il morto ci esce. Nicola. Possiamo giocare un lavoro come operai. Magari come manovali a Palermo. No, più lontano. No, più lontano. Nella legione saniera. E come ci vai in Francia ? Soldi ne hai ? No. E nemmeno io. Totò. Ci staranno cercando. State zitto. San Rosario ha parlato, Don Luigi non ne sta cercando di sicuro. Colpa tua, Totò. Eh già, perché tu che hai fatto, eh ? Sì. Pure io. E allora ? Fermare me dovevi. Che amico sei. Fermare me dovevi. E a me che mi fermava. O ci ammazzano o ci mettono in galera. Totò. E se Rosario non avesse parlato ? Ha parlato. Ma come fa a raccontare ai genitori una cosa così scellerata ? E' vero ? Come fa ? Forse ha tenuto la bocca chiusa ? Eh ? No, no. Ha parlato. Aveva una faccia. Mi scherzo. State zitto. Nico. Oh. Non c'erano testimoni. E' da marci. Verui è ? Non siamo stati noi. Rosaria si è sbagliata. Rosaria è ingiusta e bugiarda. Non siamo stati noi. Non siamo stati noi. Era già buio. Chissà chi ha visto, chissà chi ha sentito. Sì, era buio. Noi eravamo in campagna, lontani. Non ci abbiamo neppure messo piede là dentro. Si è sbagliata. La parola per Rosaria vale quanto la nostra. Vero. Io non ho fatto niente. Neppure io. Rosaria io non l'ho vista. Non l'abbiamo vista. Siamo salvi di coppia. Don Galò, tutti sappiamo che siete uomo giusto e di grande rispetto. Se non intervenite voi... Intervenire ? Eccole. L'offesa fatta a Rosaria è grave. Duplice e pubblica. Si posebbe, forse, chattare con Don Luigi una riparazione. Io non voglio che totò sposi una che è stata anche da un'altra. E quindi è bagascia. E lo stesso vale anche per Nicola. Perché tutti sanno che se una donna non vuole... Con questi discorsi non si accomoda niente. A volte servono le parole dure e a volte quelle mobile. E pensatele voi le parole giuste. Aiutateci, Don Galò. Perché prima di vedere Nicola morto... Io prendo un fucile a maschio, Don Luigi. Restatevi quieto. Queste cose si fanno senza dirle. Don Galò, se c'è da spendere... Intanto farò cercare i due picciotti da Saro e da Vito. Avranno protezione e un rifugio sicuro. Poi vedremo. Su certi aspetti del fatto... Due persone potrebbero testimoniare. Mi figlia Gammellina che ha visto i due picciotti d'assi alla fuga. È il carattiero Loguzzo che ha riportato Rosario a casa. Sono testimone pericolose, Don Galò. Loguzzo farà giudizio. Sulla lingua di Carmelina comando io. E parlerò con Don Luigi. È un uomo difficile. Ma io non ho più difficile di lui. I carabinieri. Don Luigi. E che ci fate con quell'affare nelle mani? Sto aspettando che passano due cani che mi hanno lavato il sonno. Ah. E gli volete sparare. È l'unica maniera per dormire di nuovo. Capisco. Però c'è una difficoltà. Per legge è proibito sparare nei luoghi abitati. E poi mi fanno contrapensione. Dopo che avrò sparato. Don Luigi, datemi quel fucile. Qual portatarmi, voi lo sapete. Statemi a sentire. I cani che state aspettando in paese non ci tornano. A quest'ora saranno perlomeno a Palermo. Se vi è stato fatto torto. Se avete un affronto da far pagare a qualcuno. Sporgete denuncia e affidatevi alla legge. Voi siete un bravo uomo. E io vi rispetto. Ma dopo tanto che siete qui ancora non avete imparato che certe faccende ce le sbrighiamo fra noi. Buonanotte a voi, signoria. Vai a svegliare Tuzzi. Bisogna beccare Totò e Nicola avanti che li ammazzino. Toccano. Toccano. Salute. Salute. Passate parola agli amici. Bisogna trovare Totò e Nicola e dagli la protezione di cui hanno bisogno. Andate. Toccano. 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 Toto, Nicola, non scappate, non vi facciamo nulla Ma dove andate? Toto, Nicola Toto, Toto, Toto Aspettate, vi vogliamo rascondere Non scappate, perdone Toto Aspettate, idioti Noi non abbiamo fatto niente Ho detto di scendere, vieni su Scendere Scendere Che me lasse solo Vieni qua, posso scendere solo No, niente manette, portateli via così Se fa sapere, perché li arrestate? Dopo, dopo Tuzzi, portateli in guardia Ma io a casa devo andare Sì, è il camposanto, andate Disgraziati Capisco il vostro stato d'animo Anche perché il paese è a corrente di tutto Ma se apriamo le cataratte del sangue, Don Luigi Qua facciamo l'opocalisse Mi sentite? Mi sento Don Salvatore e Don Nenè Sono due padri sventurati quanto voi Traditi dai loro figli Non parliamo dei figli Ma non parliamo Ma il brigadier Maioli Ha fermato Toto e Nicola E me le ha levate dalle mani Maioli Sarà costretto a rilasciarle Perché Non essendoci denuncia di parte Non c'è ancora Non vorrete mica mischiare La legge agli affari vostri Ho una proposta da farvi Don Salvatore È pronto a versarvi Mezzo milione Don Nenè Vi cede il raccolto di agrumi Dall'anno prossimo Mezzo milione E quattro arance Per avere massacrato una ragazza E disciutto l'onore Di una famiglia Bravo Don Calò E se l'avessero fatta A vostra figlia A mia figlia Certi cose non si fanno Proponete voi una soluzione Don Luigi Ce n'è una sola E voi sapete qual è O tra un mese Rosaria si sposa Oppure io Apre Con permesso Che vi serve brigadiere Credevo di essermi spiegato stanotte Ma bene merita si sa È dura l'orecchio Don Luigi Vorrei scambiare Quattro chiacchiere Con vostra figlia Rosaria Perché Vai di là Il perché lo sapete Anzi lo sanno tutti Ma voi Di che vi impicciate Dovrà pur guadagnar Solo il pane Che mangia il brigadiere No Don Luigi La voce pubblica Afferma che è stato commesso Un reato Siccome so E voi lo avete detto Come vanno le cose Da queste parti Ho il dovere di indagare E se è possibile Di prevenire Ho fermato i due presunti colpevoli Adesso Ho bisogno di sentire L'opinione di vostra figlia L'opinione di vostra figlia No 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 Portatemi un mandato Di comparizione Di perquisizione D'arresto Di quello che vi pare E se l'ho trovata ancora viva Se non l'avrò massacrata Con queste mani E allora parlerete Con quella che è la mia figlia Va bene Ve lo porterò E bravo il brigadiero In quanto a voi Ho fatto un sopraluogo Nella casa colonica abbandonata E avete trovato Il colpo del reato No, ho trovato Un paio di scarpe Con tacchi alti Una cinta di cuoio Un rossetto per labbra C'era anche un reggiseno Ma andate a ritirare Tutti in caserma E' roba di vostra figlia Carmelina Disonesta Pure la bencariaissima Hanno trovato Degenerata Magine tu per chi moriste O vedi che me fa La cinghia Carmelina Carmelina Rosà Carmelina Sentimi Io ti ho aiutata tante volte Proprio per questo Mi sono arrovinata Tu adesso Devi aiutare a mia Quello che vuoi E' rosa Qualunque cosa Che ti serve Mi voglio ammazzare C'è santissima Sul serio Sul serio E come ti vuoi ammazzare Col treno Col treno Sotto Sotto Oh peggiamarsi Mi accompagni Da sola Non ce la faccio Ma certo che T'accompagno Mischina Gugeno Mischina Sul serio Dici Sul serio Ecco Lì va bene Lì va bene Lì va bene Lì va bene Le cinghiate Ti butti sotto Quando arriva No Mi metto Con la testa così E aspetto Che coraggio Ma il treno Passa stasera E io aspetto Rosario Non ti ammazzare Che ci faccio Il mondo ridotto Da così Già Che ci fai Non c'è più amore Pimmia Hai sofferto molto Quando quei due schifossi Zitta Non mi ci far pensare Rosario Chi è stato il primo Totò Maledetto E come ha fatto Mi guardava Mi guardava Con due occhi Grandi a così Che spavento Un lupo Un assassino Basta Non mi dire altro Poi Parrava Io non capivo niente Parole da lupo Diceva Poi Con la mano Mi ha preso la spalla Qui Un fuoco Camelina Un fuoco Ti capisco E poi Mi ha dato un bacio Come un morso E tu Schifo Camelina che schifo Che schifo E poi Poi mi sono svenuta E non hai sentito più niente Un dolore Ma sei detto che eri svenuta Sì Il dolore l'ho sentito Ma allora di Nicola Non sei sicura Sicura sono Sicurissima L'ho visto che me veniva addosso Come una montagna Che schifo Che schifo Tuo pace Li deve ammazzare Tra cinquant'anni Macari Non può Perché Li hanno arrestati Poveretti Ma io mi ammazzo Hai lasciato scritto a casa No Mi troveranno sfracellata Soffrire debbono Anche me pace E me maccio Soffrire debbono E giusto Rosaria Io devo andare via Se mio pace Non mi trovo Poi mi dà le cinghiate Non vuoi vedermi morire E come fai? Ma ce te l'ho detto Vatti in casa Hai ragione Proprio ti vuoi ammazzare Rosaria Addio Rosaria Addio Yarol Dimmi No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo so di Nicola perché tu sei stato il primo e gli hai dato il cattivo esempio Sì, io vi, scappavano con le facce da lagioni, da vampiri E avevano le unghie a così Sì, sì, è vero, due lupi erano Il Ducascavo si fece male, guardassi il brigadiero Sì, sì, è vero E quando si fece male ha bestemmiato a Maria Santissima Faciamo le mani Saluta Vossignoria è una persona di età eppure parla troppo e parla male E a questo ci dispiace molto E voi altri picciotti con latte in bocca siete venuti qua a insegnarmi come devo parlare Siamo venuti a darle un consiglio Di consiglio ne avete bisogno voi e la persona che vi paga Allora è un avvertimento Avete reso maggio carabinieri costituendovi parte civile Per non aggravare lo sgarbo fatto a persona di rispetto Dovete costringere vostra figlia a ritrattare l'accusa Altrimenti Altrimenti cosa? Ma figli di... Deve ancora nascere chi può fare paura a me Che al vostro persona ditegli che una carogna come lui Dovrebbe conoscere il codice Quei due delinquenti hanno confessato O con la denuncia, col procedimento d'ufficio In galera ci vanno lo stesso Grazie a Dio Maggi Santissima Virgine Beneditta Fate che mi svegli che non sia successo niente E invece è successo Fate che quei due scellerati soffrano le pene che soffro io Specialmente Totò Ma se è possibile meno di Nicola però Arrivava Luzone A lingua ti debbo tagliare Per colpa tua E ne sono nata la famiglia Presto Maria Ma come lo schiaffo mi dà? Assassini Lucori mi state staraffando L'inferno L'inferno mi deve prendere Assassini Sei fazzita Rita Tu, viamo Vabbè Ma calma se no peggio facciamo Bazzi Nicola 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 Bello mio Nicola 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 Tenate calma di Innocente Innocente Come stato Grande Insonesta Svergognata 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 Oh mio Calfatevi 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 Andate calme Portatelo a casa Calfatevi Calfatevi Bello 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 e antico E' la prima volta Che ho l'onore Di visitare la vostra casa E vi dico Che è tutto bello Bello e antico Gli antenati E bisogna essere sempre orgogliosi Dei propri antenati Sì sì d'accordo Ma io non vi ho invitato qui Per ammirare la casa Ogni cosa ha il suo tempo Don Salvatore Il tempo lo stiamo perdendo Scusate ma fra l'altro Non abbiamo fatto una buona figura Mio figlio è in galera Avanti Dicevamo Sì devo E se permettete continuo Io vi dicevo che mio figlio sta in galera E redete Scusate Ma se credete che io sia tipo da subire gli sgarbi Sbaglio c'è No non devo questo ma Don Salvatore Brutta parola quel ma Esprime dubbio Diffidenza Mio figlio Don Calò Mio figlio La soluzione per Totò è un gioco da ragazzi Se parole giuste ha le persone giuste Un po' di olio Per unge di meccanismi E da dove esce di galera Come un passaro dal nido Esce? E come? E vale Ma voi scherzate? E vale Qualcuno lo porterà a Napoli Poi con un nome diverso Sparirà nel Venezuela No 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 Non ho nessuna intenzione di perdere il ragazzo E poi nell'evasione C'è sempre un poliziotto Troppo ligio al dovere Che spara Allora c'è un altro sistema Più dispendioso Più lento Ma più tranquillo E qual è? Tutto è corruttibile Datemi mezzi E io da Roma in giù E da Roma in su Vi corrompo tutto e tutti Voi mi capite? Tutto e tutti Ci vorrebbe il pozzo di San Patrizio? No, perché ho sotto mano la persona adatta Anzi Se voi siete d'accordo Vado a telefonargli subito al palermo Fate voi O naturalmente vi occupate solamente di Totò Se per caso Donne Neve venisse da voi per... Quello pezzente Io e mia moglie stavamo venendo a casa di vostra signoria per fare omaggio Omaggio per che cosa? Nicola Don Calò Se vuoi signoria non interviene la legge se lo mangia Vediamo l'omaggio Avviciniamo Donne Neve Con i polli, il dolce e il vino Non si fanno più nemmeno le prime comunioni Vai, vai Dal sole scotta Povero figlio mio Io non riesco a dormire Si sono scordate tutte di noi Pace, macce Sai Ho sognato a Rosaria E perché te la sogni? E che ne sa Vieni qua Ecco voi Come la sognaste? Pianceva Poveretta Poi invece mi svegliai Ed ero io che piangevo E allora piangi Pianci imbecille Pianci, piangi Che cosa vuoi che faccio? Che mi metta a ridere? Io non me la sogno Ci penso E non mi pento Da quello che ho fatto Lo farei anche subito Anche adesso Con lei? Con lei Ma tu non ci dovresti essere Eh ma io Ci sono Ci sono stato Lo so Che ti disse Quando tu Ma niente Mi guardava Mi guardava E tu? E io che Lo sai no? Quello che hai fatto tu Desonesta Con me ha lottato Se defesa Con tia no Da schifosa Niente Non ne vuole Sono due giorni Che non mangia Lugino Quella figlia Ci muore Apre la porta Apre Apre la porta Go there Aspetta Don Salvatore con l'aiuto di Don Calò Ha chiamato un avvocato di Palermo Don Nenea ha scritto A un cugino lontano di sua moglie Avvocato pure lui a Bologna Ma allora anche noi Zitta tu Io non chiamo nessuno La partelesa sono io La partelesa è Rosaria Sono io Sono io Il mio nome Il mio onore E dovranno venire tutti A leccarmi i piedi fino a qui Altrimenti Un'altra nota di San Bartolomeo faccio Speriamo che arriva Eccomi qua cugini Sono arrivato Fa un po' caldino Carissimi Come va Ecco qua l'agnello In mezzo i leoni Tu sei Totò E tu Nicola Scelerati Tu sei il primo e tu il secondo Fetusi E adesso vi brucio vivi a tutte e due A tutti e due A te ti porto dalla tua pagione Viamo Ninni Tu sta ferma e non ti muovere Sì Cari, cari, cari Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Niente. Allora prendilo, vedi com'è carino. Miau. Ti terrà compagnia, no? Sì, ma il nome ce lo cambio. Rosario, chi è? Nessuno. Come ti senti? Ma come una che c'ho il verme solitario. Ma che stai dicendo? Hai sempre fame? Beh... Sì. Oh, madre santa. Perché è grave? Rosario, quando le donne hanno sempre fame, non hanno il verme solitario. E che hanno? Oh, che stupida. Rosà vuol dire che devono mangiare per due. Rosà, ma tu? No. Che ne sai? Eh, lo so. Ah, meno male. Con i padri in galera sarebbe stato un bel guaglio. Non dirà così. Se dovesse accadere un padre solo, voglio uno solo. L'importante è che non sia successo. Quanto gli daranno? Mio paccio diceva a Don Salvatore che era appena da tre a dieci anni. Più dieci che c'è perché sono stati in due. Perché sono stati tutti e due, vero? Tutti e due. Lo sai. Dieci anni, eh? Senti un po'. E se te dicessero di sposarne uno, chi sceglieresti? Toto o Nicola? Nessuno dei due. Solo a pensarci mi torna lo schifo. E poi mi sposerebbero per uscire di galera. Non per amore. Si sono presi gli avvocati coi due delinquenti. Dovranno mettersi in ginocchio davanti a me. Paccio davanti a me. E poi dirò no. No e no. E anche se Toto piangesse e mi baciassi i piedi. Io gli direi vattene lupo. Vattene assassino. Che mi hai spezzato lo cuore, i sentimenti e tutto. Mi inizia che ha un'acqua sentiera pare. Della valla ci vuole l'acqua di colonica. Facciamo chiarità venne. Via. Via, via. Saro, tu mogli in bomba si mise. Fermate. A bottona, tenuta sei. E fai la citta. Che femmina pugnata di ferro ci vuole. Ah. Dunque. Io direi... Nunc est bibendum direi. Ci vogliamo bere qualche cosa prima. Vieni, vieni. Vieni avanti. Sì. Dunque. A quanto mi avete riferito, Toto ha agito sotto l'imperio della foia. Grazie figliolo. Cioè del desiderio smodato. Della libido. Dello fregolo, via. Cosa riprovevole sul piano morale. Grave sul piano penale. Soprattutto perché il ragazzo ha confessato, è vero. Hai risparmiato la galera a persone assai più compromesse di Toto. Sei appunto l'avvocato degli amici. E degli amici degli amici. Don Calò, mi diceva il greggio avvocato che col denaro... Tutto. Tutto si compra con il denaro. E chi non lo sa. Ma la giustizia no. La giustizia no. I magistrati guadagnano poco, ma rimangono misteriosamente onesti. La giustizia tutt'al più si raggira. Si confonde, si annebbia, si addormenta con la ninna nanna del razziocinio... ...o con i fuochi d'artificio della retorica. Si disarma. Si disarma. Distruendo a dovere i colpevoli, mi spiego. Ottenendo il mutismo dei testimoni. Ma qui, amabile donna Rita, egregio Don Salvatore, carissimo Calogero... ...qui sembra che ci sia stata una cara a chi parlava di più. Re che confessano, testimoni che sbragano. Non riconosco più in questo strano e facondo paese la mia Sicilia... ...dalla bocca, dico, tradizionalmente chiusa. Ora è rotundo. Ec no valo quidur Sicilia mea. Avrei in valigio delle camicie da lavare, se la figliola qui volesse... Come, se volesse. Deve volere. Stia tranquillo, avvocato. Grazie. Grazie assai. Io capisco, è vero, i motivi. Ragazza, con quelle camicie facciamo un servizio rapido, eh? Bravo. Capisco benissimo i motivi per cui non si vorrebbe che Totò sposasse Rosaria. E li condivido. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, mi sembra che il matrimonio... ...sia l'unica soluzione, l'unica via d'uscita. Quello dei due, infatti, che sposerà Rosaria, secondo la legge... ...ottiene il perdono giudiziale. Esce di galera. E rimane cornuto per tutta la vita. I pregiudizi, i vecchi formalismi. Non valeva la pena di disturbare una scienza come voi, avvocato... ...per arrivare a questa bella conclusione. Conosco Giorgio Mazzarò da vent'anni, ai tempi del seminario. Non è mai stato ovvio, banale, primo di fantasia. Ha avuto sempre, nella tasca interna della mente... ...la carta segreta da giocare, eh? Grazie, grazie, caro. Voi parlavate di danaro. Ne occorrerà. Molto. Ma sarà producente. E inoltre, amabile donna Rita, il fastidio di avere in casa... ...una nuora formalmente desonesta durerà pochissimo. Perché noi, naturalmente, un mese dopo un matrimonio... ...chiederemo la nostra brava separazione legale. E soprattutto, in seguito... ...coltivando convenientemente... ...è sempre questione di danaro, si sa. E coltivando, dicevo, le mie alte aderenze romane... ...noi otterremo l'annullamento. E si sa, questa è l'ultima pennellata di questo quadro che avrei disegnato. Bravo. Grazie. A proposito, don Calò... ...come si chiama il collega che si occupa di Nicola? D'Angelo. Straniero. Viene da Bologna. Ed è un lontano parente della madre del ragazzo. D'Angelo, D'Angelo. Sconosciuto, un mestierante sicuramente. Comunque, sarà bene fargli subito intendere che qui... ...non siamo a Bologna. Compito mio. Quanti gradi? Diciotto. Eh, si sente. Ho sempre desiderato di visitare i miei luoghi di origine... ...e quel maiale di vostro figlio me ne ha dato l'occasione. Io soggeziono a chiamare cugino vostra signoria. Ma Nicola, maiale non è. Tu sei santa di nome di fatto, cara cugina. La maialata... ...e guarda che sarebbe una maialata anche a Bologna, eh. Nicola l'ha fatta e per colvo di diozia l'ha pure confessata. Permettete, signor cugino. No, senza signor... Cugino, basta. Io dico... ...se il lago si muove... ...il filo non entra. Non capisco cosa voglio dire. Lago... Ah, ho capito. Eh sì, insomma lago sarebbe rosaria. Secondo voi non si è mossa, eh. Beh, caro Nene, in fondo in fondo a pensarci bene potreste anche avere ragione. Ma non serve, no. Un'antesi di questo genere sarebbe più dannosa per Nicola che utile, no. No, pensando bene... ...lume di naso, eh. All'infuori del matrimonio non vedo altra soluzione. Matrimonio? Non la voglio un figlio cornuto. Ma senti perché roba, non vogliono il matrimonio per via delle corna a priori. Ma sono fesserie. Eh. Ma se le sposate intatte, nove volte su dieci, le corna ve le fanno poi dopo. A posteriori. Ma non dalle nostre parti. In tutte le parti del mondo. Nicola ha fatto il porco e bene paghi. O col matrimonio o con la galera, che è poi la medesima cosa. Quanti gradi? Diciotto. Eh, si sente. Dunque, volevo chiedere un'altra cosa. Ah, la ragazza almeno è bella, eh. Ah, io non la toccherei nemmeno con un dito. Ho capito. Allora è bella. Sì, è bella, eh. Quando noi... ...quando voi vecchi dite queste cose... ...non lo so, pensate che si... ...avete... No. Né mio pace né mia macchia. Nessuno mi può convincere. Non la sposo. Ti ho detto e ripetuto mille volte... ...che si tratta di un matrimonio... ...per modo di dire. Hai capito? Una formalità. No. Se mi sposo io non ne voglio a nulla mente. Con Nicola non ci doveva stare. Se potessi uscire di qua, il cuore ci mangiassi. Figliolo mio caro. Io forse mi sbaglio. Ma ho l'impressione... ...che tu a quella pecciotta... ...ce stai pensando notte e giorno. Sì. Per maledirla. Per dirla che è più bottana di una bottana. Tu c'hai un concetto personalissimo delle puttane. Comunque augurati che mi venga un'idea. Perché se non mi viene un'idea... ...lo sai? Quanti anni ti prendi? Dieci anni. Perché non possiamo contare su nessun attenuante. Mi vogliono dare pure cent'anni. Ma io a Rosaria non la voglio. Senti, ho faticato. Ho sette camicie per convincere tua madre e tuo padre. Andiamo, Rosaria giovane, bella. Eh? A me non mi piace. Però quando la prendesti ti piaceva, maiale. Hai la faccia di uno che le maialate... ...o non le fa, o le fa male. Beh, una volta per tutte. Ci sei stato sì o no con Rosaria? Certo che ci sono stato. Allora quei lineamenti e quell'espressione da bravo figliolo... ...sono tutta ipocrisia. Però devo cercare di salvarti. Perché tra l'altro sia pure lontana se il mio parente. Speriamo che mi venga un'idea, ragazzol. Altrimenti da questo processo... ...nosciamo tutti con... ...qualche cosa di rotto. Così è. Teste matte che siamo. Generali, avvocati, industriali, commercianti, impiegati, pezzenti... ...idealisti, tiranni, poeti, maschi e femmine, giovani e vecchi. Non appena ci coglie la notte misteriosa, incantata, ruffiana... ...ci spogliamo d'orgoglio, di boria... ...e tutti i salmi finiscono in gloria. Sì? Avvocato Mazzarò, legami. Ah, bezzuzza lui. Trasi, trasi. Erlone, e ancora non è pronto. Eccomi, eccomi. Da qualche giorno svanita stai diventando. Che guardi? Niente. Mangia. Luigino, dobbiamo trovarci un avvocato. Zitta tu. Qua non venne ancora nessuno a leccarti i piedi. Zitta tu. Mangia. Nessuno venne a offerti di riparare il danno. Pazzamare, la lingua ti devo tagliare. Mangia. Verranno. E più giorni passano, più lacrime di sangue ci faccio versare. Eccone uno. Apri. Ma, è il brigadiere. Compermesso? Poi il compermesso lo dovete chiedere quando siete fuori dalla porta, non quando siete già entrato. La legge va un po' per le lunghe, ma alla fine la fa il suo dovere. È per Rosaria. È il mandato di comparizione per il processo. Il processo? Sì, signore. E vostra figlia avrà giustizia. Ah. Il processo. Hanno voluto il processo. Invece di venire da me, hanno voluto il processo. E allora il mio nome andrà su tutti i giornali. La mia vergogna la sapranno i porci e i cani. Ma io le ammazzo tutte! Tutte! Non fermo! Non fermo, per carità! Ma dateci un po' d'olio! Fermo! Fermo! Sì, signore! Fermo! 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 Fermatelo! Sì, signore! Potete andare. Un momento. Chiedo perdono, signor presidente. Avrei una domanda da porre alla testa. Epponetela. Rimettetevi seduto. Vorrei sapere dalla testa, con la massima precisione, si è ben sicura di aver visto Nicola Badalà uscire dalla casa abbandonata mentre Totore stava fuori con le spalle appoggiate al muro. Avvocato, se il vostro cliente stava fuori ad aspettare, era perché aveva già fatto i suoi porci comodi. E magari fosse così ingenuo da voler dimostrare il contrario. L'ingenuità è solamente dei santi, degli eroi, per carità. Carmela Lonero, rispondete. Qui sembrano tutti sordi, l'ho detto cento volte. Carmela Lonero, non fate commenti e voi, avvocato, non ci fate perdere tempo. La testa ha confermato due minuti fa la deposizione resa in istruttoria. Rispondete con un sì o con un no, via. Sì, sono sicura. Totò dunque fu il primo e Nicola il secondo. Oh, finalmente una circostanza che non conoscevamo. Il mio illustre collega va cercando farfalle sotto l'arco di Tito. Grazie, grazie, signore, che vi devo dire. Grazie dell'ironia, grazie degli spiritosi commenti. Comunque è ora ben chiaro e tutti sanno con certezza assoluta che Totò fu il primo e Nicola il secondo. E al mio illustre collega, che con cortesa iperbole, absi tiniuria verbis, amerei chiamare l'uomo dal cuore in mano. Voglio regalare un anticipo della mia tesi difensiva. E cioè che colui che per secondo agì in questa fosca vicenda, che tanto simile mi sembra e per tanti versi alla tragedia greca, che ancora pare aleggiare, epica e corrusca in questi antichi luoghi, colui dicevo che agì per secondo... Avvocato, per piacere. Non ci concedete anticipi? Lasciateci nell'ansia dell'attesa, eh? Voi potete andare. Fetuso. Signor Presidente, chiedo alla corte di richiamare la parte lesa, alla quale intendo rivolgere alcune domande. Ma insomma, ricominciamo da capo. C'è anche la parte lesa, come tutti, ha confermato le deposizioni. Chiedo scusa, ma ne ho ancora bisogno. Sto cercando di fare il mio dovere, signor Presidente. Rosario Tizzini. Venite a qua. Avanti. Il governo mi deve fare giustizia. Vai. Siete. Mettetevi seduta. E ricordatevi che vi è stato dato un difensore d'ufficio, l'avvocato Crisolia. Avvocato, mostratevi. Mi mostro. Avanti, avvocato D'Angelo, e se è possibile, sbrigatevi. Rosario Tizzini, sei così giovane e bella che mi viene di darti del tu come se fossi una mia figliola. Signor Presidente, il collega si rivolge direttamente alla destra e cos'è? Esistono forse privilegi per i continentali? Ah, 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 caro collega, parlando di continentali dichiari il tuo complesso di inferiorità di isolante. Quale complesso? Non ho nessun complesso io. E se tu credi di fare colpo con questo tuo dono da tagliatelle e dall'ambrusco... meglio che con il tuo da mafioso sui generi. Ma da che te do querela, eh? Basta, finitela! Non siamo qui per assistere alle vostre zuffe verbali, ma per amministrare quella giustizia che tutti, isolani o continentali che siano, hanno il diritto di aspettarsi. Riprendete, avvocato, e rivolgete le domande a me, nude e crude, e date del voi alla testa, come d'uso. Nude e crude? Già troppa nudità e troppa crudezza ci sono in questa vicenda, signor Presidente. Beh, ma lasciamo andare. Rosaria Trizzini ha dichiarato che dopo l'orribile offesa recatale da Totò, ha visto Nicola andarle addosso come una montagna, ma altresì ha dichiarato che non appena Totò la lasciò, lei venne meno. E allora io chiedo, come fece Rosaria Trizzini a vedere e a sentire Nicola se era svenuta? Avete capito? Rispondete. Non lo so, io mi svenni. Cioè perse ogni facoltà di intendere, di vedere e di sentire. A rigore sembra ovvio, avvocato. No, 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 a me occorre una puntualizzazione, e cioè, Rosaria Trizzini svenne dopo Totò o dopo Nicola? Avete capito? Rispondete con precisione. Avvocato Crisolia, che ne dite? Avvocato. Ah, mi rimette all'illuminato, giudizio della corte. Ah, e le si rimette? Su, rispondete. Su, rispondete. Non lo so, io mi svenni. Me lo stanno assassinando la figlia mia. Me ne la vergogna di certe domande. Zitta, non dare spettacolo. Nudi ci hanno voluti e nudi stiamo. Però a fronte alta. E se il governo non ci farà giustizia, sempre che l'abbiate fatto voi il governo. E in gabbia lo figlio mio, per quella... ...perché se il lago si fosse mosso, il filo... Basta, basta, basta. Basta, silenzio. Silenzio, attento, faccio scambiare l'aula. Silenzio. Molto bene. Dunque la testa non è in grado di precisare. Avvocato, ricordo anche a voi che il vostro cliente è il reo confesso. Signor Presidente, signori giudici, io non concedo anticipi sulla mia tesi difensiva come fa il mio collega. No, io faccio di più. Io leggo pubblicamente il mio cliente alla sua colpa. Nicola Badalà. Ha o non ha approfittato di Rosaria Trizzini? Risponda. La domanda è superflua. Eh già, ma qui stiamo giocando ai bussolotti. Il mio collega legge libri gialli e vede i film di Hitchcock. Chiedendo scusa in anticipo, allora la domanda la rivolgo io. Nicola Badalà, rispondi. Hai o non hai approfittato di Rosaria? Avvocato D'Angelo! Avete mancato di rispetto alla corte. L'udienza è sospesa. Eh, no, no, cugini. Se fate quelle pacce, tutti penseranno che siamo fregati. E invece non è vero. Possibile che voi siciliani dobbiate fare delle tragedie anche quando la tragedia non c'è. Oh, su, sorridete. Per Nicola c'è sempre speranza. Cugino, con la speranza meschine si vive, meschine si muore. Io sono ignorante, lo so. Ma voi, cugino, proprio voi che siete il suo avvocato avete fatto a Nicola quella domanda. È un colpo, Gobbo. Me ne accorgerete. L'importante è che Nicola mi aiuti. Vedrete, al mio collega gli faccio venire i termi. Vedrete. Adesso vi spiego. Dunque. Satisest? Satisest, grazie. Naturalmente io ho la mia tesi che sosterrò fino all'ultimo respiro. Ma la soluzione migliore, quella di effetto più sicuro e immediato, è e rimane il matrimonio. Il resto la ragazza non è da buttare via. Anzi, anzi, direi che è addirittura veloce, quindi... È facile apprendersi. Come estrema razio non escludo che questo matrimonio possa maledettamente concludersi. Bravo. Bene. Considerando anche le promesse che ci avete fatto. Sì, certamente. Totò è figlio mio. Appreso da me e non cederà. Io apprezzo, Zarrita. Apprezzo. Ma credetemi, da luoghi come questi più presto si esce, meglio è. Si direbbe che non siete troppo sicuro di voi, avvocato. No, perché? Giorgio Mazzarò è sempre sicuro di sé. Don Calò, voi vi siete messi a collezionare brutte figure. Lo dite voi, Zarrita, e vi sbagliate. Vado a fumare un sigaro. Con permesso. Io al vostro posto insisterei con Totò. Anzi, anzi, durante la ringa fatemi un cenno se per caso riusciste quel bolognese del diavolo deve avere in testa qualche idea. Ma non fatemi ridere. Ad un ragazzo come Nicola non mancheranno le occasioni per provare il contrario. Pregate Dio piuttosto che riesca a convincere i giudici. Vi assicuro, cugini, che il peggiore dei guai è quello di andare in galera. A proposito dei guai. Brigadiere? Permettete un momento? La mi scusi. Prego. Veramente avvocato il processo in corso se ci vedono chiacchierare e qui pensano subito... Ah, collusioni, eh? Eh, no, si tratta di denunce, brigadiere. Altro che collusioni. Denunce contro chi? Oh, contro ignoti, naturalmente. Ho ricevuto tre lettere anonime, pienezzeppe di insulti e di minacce. Diteglielo, diteglielo a voi il resto. È venuta una persona che non conosciamo. A consigliaccia di mandare via di casa l'avvocato nostro cugino. Se non volevamo che le due vacche che abbiamo ci morissero avvelenate. Capito, brigadiere? E siamo in Italia nel 1962. In Sicilia, avvocato. E beh? Comunque, la stia tranquillo che non accadrà nulla perché noi la proteggeremo. Ah, grazie. Avvocatissimo. Sto seguendo il processo. Io ammiro la vostra facondia e la vostra abilità. Ma parlate di me, non risparmiatevi la voce perché da queste parti l'aria fa venire strane il raucedini. È un consiglio. Ah. Beh, vedete, per questo tipo di raucedini ho l'efficacissimo sciroppo della legge. È la scorta dell'arma benemerida. Un giorno o l'altro scorterò anche voi, don Calogero. Ne sono sicuro. Beh, nella speranza che ciò sia veri andiamo a sentire la ringa del mio eloquente collega. Auguri, brigadiere. Grazie. Comunque, la vostra canzone è la sua. E cominciamo, ci asemmo. Ci asemmo per stare cominciando. Ha mai tenuto una donna fra le sue braccia totò prima di aggredire Rosario? Mai, signore della corte. E perché mai? Eh? Alla sua età. Un ragazzo, un virgulito. Perché mai? E con quale mai, donna, vi rispondo io, avrebbe potuto amoreggiare totò quando dalle nostre parti, tutti lo sappiamo, è vero, il semplice parlare con una ragazza equivale a compromettere. No, signori, no, non è dunque a totò che bisogna fare questo processo, ma a chi, tenendo nell'ozio e nell'ignoranza questo nostro popolo antico e nobile per la sua civiltà, ha fatto sì che le questioni del sesso assumessero addirittura i toni e i colori dell'angoscia a chi ha permesso che oggi nell'era atomica siano ancora i genitori a scegliere gli sposi. E che potevo fare totò dinnanzi allo spettacolo della nudità di Rosario? Avanti, caricatevi anche voi, caricatevi della sua ansia, della sua ancestrale smanio. Che cosa poteva fare se non avvicinarsi, supplicare, boccare, entrare nell'orbita fosforescente della gara? Adesso facciamo pure della missilità. Ma guardatelo, signori, guardatelo, totò, questo eroe romantico in cerca della sua Dulcinea, via della sua Elena, dalla sua Giulietta, dalla sua Ernione. Tante ne aveva quello schifoso. Totò un brutto mandiamo, signori della corte. Totò è la vittima irresponsabile di un paese retrogrado e di un mondo arretrato. La vittima irresponsabile non la più grave e irresistibile dalle provocazioni. La provocazione della sensualità inibida, concolcata, compressa. una tesi da equilibrista sulla corda. Assoluzione per aver agito in stato di necessità. No, no, no. Non atto di violenza il suo, ma atto d'amore. L'amore cosmico, vorrei dire. Eh? Un atto di ribellione eroico. e se la legge, signori, se la legge esige un capo espiatorio, se vuole a tutti i costi affermare il suo magistero attraverso la freddezza di una condanna. Eccolo là. Eccolo là, signori dell'accordo. Il solo, il vero responsabile, il bruto da colpire, da radiare dei ruoli stessi della società, Nicola Badalà. Non ci sarebbe un bicchier d'acqua. Ma non ci sta acqua. Nicola Badalà, signore, il quale, dopo aver assistito all'atto d'amore dell'amico suo, affreddo, eh? Premeditatamente come una montagna, si gutta Montes Rigides, vorrei dire, si è buttato sul povero corpo del Rosario per farne sebbio all'Udipria. Signori della corte, che vi devo dire di più? Certo, certo, felice sarebbe Totò di riparare al piccolo danno inferto alla sua tenera compagna d'infanzia conducendo Rosaria secondo la prassi all'altare. Ma come può? Ma come può, dico io Totò, sposare Rosaria quando l'ombra infida e beffarda di Nicola rimarrebbe accanto al Talamo stesso, ghignando con crudeltà e accennando signori della corte con due dita adunque a due simboliche ma orribili perché inequivocabili a prioristiche. Corna, signori della corte, ma che tu è il tuo che succede? Silenzio! Nicola, non ti fare male, Nicola! Basta, basta! Lo faccio scoprire l'occhio, basta dito, mancetelo Carabinieri, sapete l'ordine Avanti, silenzio Andiamo Calmate, su, state tranquilli Carabinieri E' morta E' morta la vecchia Alzati Alzati Se non la finisci con questa commedia, ti piglio di pesa e ti porto in piazza Avanti, alzati Oh pace, per carità, lasciatemi purificare Io ti rompo la testa Monaca, ma voglio fare pace Non ci resisto più a un tasto monno Monaca, pace Ma prima mi debbo purificare Lugino, non fare peccato mortale La pizzeria dopo lo svenimento sentì la chiamata Santa vuole diventare Fuori già portano i fiori peda Ma insomma, può forza buttano santa, deve essere Io la voglio, donna di casa Donna di casa Totò, pensaci Sulla soluzione non ci conto Nella ringa ho detto che sei un cavaliere romantico Ma non è vero Totò, sporcaccione sei E adesso Rosaria se vuol fare monaca E tu la perdi per sempre Tu che in fondo ne vuoi bene Se fa monaca, Totò E non l'avrai mai più Pensaci Non l'avrai mai più Mai più Non devi mai aprire bocca, hai capito Sì Mi posso fidare Sì, sì Bata che se mi smentisci ti prendi dieci anni Hai visto cosa significa stare in carcere Ho visto Ma va signoria, mi deve far uscire subito Spero di riuscirci Ma tu devi accettare tutto, hai capito Tutto Sì signore La corte La parte lesa Rosaria Trizzini Così come risulta da un sopralluogo Fatta dal giudice Mangone Non è in condizione di assistere all'udienza Avvocato, tocca a voi Signor Presidente Abbi pazienza Signori giudici e tutti voi convenuti Avvocato Un momento Mi lasci dire Signor Presidente Sono ambasciatore di un annunzio Ah beh, sei ambasciatore Signori Il cielo mi è testimone Della commozione Che in questo momento mi affatica E mi esalta Perché qui oggi Signori della corte Contro tutti gli opportunismi E tutte le remore Contro tutti i dubbi e i tormenti Fai entrare Trionfa l'amore Signori Rosaria Trizzini Puro e dolce prototipista Di questa epica, classica vicenda È in aula Signori È in aula per ascoltare L'unico verdetto Santo e giusto Che le sue orecchie Avevano il diritto Di ascoltare Tua nuora Totò Cacace Mi ha affidato L'onorevole E commovente Mandato Di chiedere a suo nome La mano Di Rosaria Trizzini Intendendo con questo Sposarla Con procedura d'urgenza Bravo Bravo Su Vieni tu su E a così al mondo Abbiamo un cornuto di più È una donnaccia maritata A parte la personale soddisfazione La corte del racconto A tempo e al luogo Della decisione Presa dall'imputato Totò Cacace Per trarne le conseguenze di legge Avvocato Dancio Lo tocca a voi E così Signori della corte Il mio cliente Ormai solo Sul banco della colpa Solo Di fronte al crimine Povero Nicola Ma come vedete Io sorrido E siccome Non mi piacciono Le parole alate Tanto care Al mio illustre collega Ti racconterò Una storiella Di questi luoghi C'erano una volta Due amici Uno era debole Gramo Premissivo L'altro invece era Forte Aggressivo Prepotente E il debole Come sempre avviene In questo mondo Le prendeva in continuazione Dal forte Finchè un bel giorno Si scocciò E reagì Alla prepotenza Come? Con un epiteto Con un solo Innocente epiteto Disse al forte Pedocchiuso Pedocchiuso Signor presidente Il forte si offese Lo ferrò Lo legò alla corda Del pozzo E lo calò Nel medesimo Sino alle ginocchia E dall'alto Gli chiese Lo dici chiù Pedocchiuso? Il debole dal fondo Pedocchiuso Il forte Mollont Mezzo metro di corda Lo dici chiù Pedocchiuso? Con l'acqua alla vita Il debole ripetè Pedocchiuso Altro mezzo metro di corda E altra domanda Lo dici chiù Quello che hai detto? Con l'acqua alla gola Il debole rispose ancora Pedocchiuso Bene Il debole morì Morì Corcogliando La sua testarda Eroica Ribellione All'arbitrio Alla prepotenza altrui Pedocchiuso Ecco così smontata Signori della corte La confessione Di un crimine Non commesso Datemi per valida L'affermazione D'innocenza Almeno per un momento Se Nicola Non ha commesso il fatto Perché allora ha confessato? Ma perché signori Nicola È esattamente L'amico Debole Della mia storiella Perché Nicola Signori Con il suo sì Ho profitato Di Rosaria Ha risposto Pedocchiuso A tutto ciò Che di retrivo Di assurdo Di conformista Regola i rapporti Tra i sessi In quest'isola benedetta Perché Nicola Signori Dopo che Totò Aveva commesso il suo crimine Non poteva Non fare altrettanto Sarebbe scaduto Nella stima del suo amico Sarebbe scaduto Di fronte a se stesso Ma come Io siciliano Per tradizione Gallo Passionale Io uomo del sud Per tradizione Eccezionalmente Pirile Ma come Io Nicola Avendo l'occasione Di possedere Una donna Io mi tiro indietro Lasciando ad un amico Ma no Ma no Signori della corte No Ma siccome Io sono Un bravo ragazzo Siccome a differenza Di Totò Queste porcherie Non le so fare Non le faccio Insisto a dire invece Che ne ho fatte E lo fermo E lo giuro E continuo a dire Pidu chiuso Pidu chiuso Anche se ciò dovesse costarmi Non soltanto la galera Ma anche la vita Io so benissimo però Che devo provare Ciò che affermo Ed ecco Signori della corte Le perizie mediche Di illustri specialisti Nelle quali si afferma Che Nicola Per un trauma Subito all'età Di tredici anni Risulta essere Un impotente Psichico Incapace cioè Fila che non sarà guarito Di avvicinare Positivamente Una donna Meschino Tutto 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 Ti devo dire una cosa Tu non mi devi parlare Ascoltami Tutto Tu non mi devi parlare Per nessuna ragione Tutto Non posso Se non parlo Muoio Tutto Ti giuro Ti giuro Ti giuro Io lo so Lo so che pensi a lui Ma ti giuro Che lui non è stato con me Tutto Ti lo giuro Che hai detto Non l'hai capito Come ti posso capire Se ti mangi tutte le parole Repeti Io non lo so Se Nicola È quella cosa Ma a mia Non mi toccò Che ne sai Eri svenuta Non era vero Tu lo diceste Apposta lo feci Per sembrare morta Ero piena di dolore Per colpa tua Tutto Un dolore Che mi fice pensare a Dio Sempre Notte e giorno Io bene Ti voglio Un minuto dopo Che tu Bene Ti voglio Tutto Giura 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 Per tutto quello che hai detto Giura Lo giuro Su chi Somme pace No Di più Somme pace Somme macce No Di più Sotto di te Sotto di mie Sotto di mie Oddena due caffè Due caffè Cucognacchi Cucognacchi Ma che fai Sei impazzito Che vuoi Sei venuto a godire Dallo spettacolo Spiona Se lo fai Perché sei psichico E' uno sbaglio L'avvocato ha detto Che sei psichico Provisorio Eh Ah si eh E paesani Da quando è finuto il processo Mi hanno messo un croce Devo sempre fare a botte Con l'amice Che mi sputtano E fimmene E fimmene Quando passo Mi chiamano Nicolina E tu cerca Di guarire presto Fatti la cura Ma che cura Cura Io voglio Ammazzarmi No Ho parlato col farmacista Avevo un cavallo Che era psichico Come te Beh Gli ha dati i mormoni E chi I mormoni Sono pasticche Che fanno diventare Più uomini Ah si Eh Allora sai che ti dico I mormoni Li fighi tu O farmacista E tutti quanti Perché io non sogno Pessichico E ora Vattene Vattene No Nicolina Lassemi 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 Vattene Non mandarmi via Sono contenta Che non sei Pessichico Vattene 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 Nicolina Ma che hai fatto Sei diversa E come Non lo so Dillo Sei Sei quasi bed No no Sei proprio bed Finalmente Pessichia lo feci E' dal paese Che ti vengo dietro Per farmi vedere Non bere troppo Sennò ti viene l'ulcera Come a mio padre Gammelina Dimmi ne co Nenti Come nenti Che caldo Dimmi ne co Dal tetto ti è cascato Una bestia addosso Oddio che bestia Dove Lì Qui Sì Vediamoci Si vede No E ora Non ancora E adesso Si Non c'è tu Nicola E' andata via C'è C'è No Sta qui No Sta qui No Si sta qui Ma che cosa fai Bambino No no Nicola No Però mi devi sposare Mi devi sposare Bambino E' l'eterna storia Che andiamo a raccontare E' l'eterna storia Che vivere ci fa E' l'eterna storia Che vivere ci fa Che es mania 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 Grazie a tutti